La trattativa è chiucca. Non c'è stata mai una trattativa. Diciamo che c'è un interessamento da parte dell'Avellino ma non si è mai aperto una trattativa? No, mai, mai. Quindi Stoian resta al Crotone? Sì, sì. Un mister lo vuole. Quindi partirà regolarmente per il ritiro. Bidawi è un calciatore che sembra interessare molto all'Avellino. Ieri gli agenti sono stati in città. Lei lo conosce bene, ha fatto un ottimo campionato a Crotone. Che calciatore è? Quando è venuto da noi ha fatto benino. Poi ha avuto un po' di infortuni. Poi l'altro anno non ha giocato, quindi non li so dire. Non l'ho più visto poi. Che caratteristiche ha tecniche e tattiche? E' un esterno alto, un destro che gli piace centrarsi. E' uno con un ottimo tripling. Adatto al 343 come tipologia di modulo. Sì, sì. Direttore, complessivamente la serie B, il mercato è attivo, però insomma gli ultimi colpi si spareranno probabilmente alla fine di agosto. Ma tutto il mercato, se lei guarda, anche il mercato di A è fermo completamente, completamente fermo. Perché secondo me se non prima ci muovono le grandi è così la B. Da qui poi si decide il mercato sempre dopo che le squadre vanno in ritiro. Allora poi di là si incomincia effettivamente a fare le squadre, a termine le squadre. Il presidente Taccone aveva parlato della possibilità della partecipazione del Crotone al trofeo Taccone il 9 agosto. Ce la conferma? Sì, sì. Quindi ci sarà l'amichevole con il Crotone il 9 agosto. Sì, sì.